È una corsa contro il tempo per raccogliere firme ma anche fondi per poter fare ricorso al TAR. I mutoide devono abbandonare il campo sulle sponde del Marecchia, l'ordinanza parla chiaro e l'amministrazione, oggi guidata dal commissario Di Nuzzo, non può far altro che renderla esecutiva. La guerra legale ai mutoide è iniziata circa dieci anni fa con gli esposti e le denunce di un vicino di casa che oggi ha vinto la causa. Non basta dunque il sostegno delle persone, dei partiti, dell'ex sindaco, la raccolta firme, così come non basta la mobilitazione in rete con oltre 15.000 sostenitori sulla pagina Facebook ProMutoide. Il futuro di Mutonia emana gli avvocati, 90 giorni di tempo per fare ricorso o sgomberare il campo. Stiamo cercando di muoverci insieme anche altri cittadini di Sant'Ercangelo che di nuovo ringrazio assai che sono partiti quasi prima di noi in questa difesa nostra, quindi ci sono movimenti intra, oltre, non posso dire, cross party da tutti quanti, se da parte politica, se da non politica di Sant'Ercangelo, che ci stanno dando una mano se stampare, se parlare in comune, parlare con il commissario, anche che vediamo come si può fare per metterci in regola per bene. Sono qua da 20 anni, se mi chiedessi di andare via dieci anni fa magari ce la facevo, ma dopo 20 è proprio la metà della mia vita a Sant'Ercangelo, giusto perché un individuo non lo vuole, mi sembra poco democratico questa cosa. Arrivati dall'Inghilterra nell'estate del 90, mutoide hanno nel tempo migliorato la situazione del campo mettendosi in regola con fognature ed elettricità. Perfettamente integrati sono ormai alla terza generazione, con i bambini che frequentano le scuole a Sant'Ercangelo. Non tutti sono artisti, anche se la comunità è conosciuta in tutta Europa per le sculture realizzate con materiali e oggetti di riciclo. C'è anche chi fa la cuoca in un ristorante della zona o che insegna inglese alla figlia di un vicino. Un legame con la città clementina che non vogliono spezzare. Bisogna trovare una soluzione, di qua non ce ne si può andare, non ce ne vogliamo andare. Non è proprio giusto, non soltanto per noi ma per tutta Sant'Ercangelo. Ormai facciamo parte di questo e sarebbe una mancanza enorme per noi e anche per i sant'Ercangelesi. Chi io lo va a raccontare che mutali non ci sono più dopo. I bambini vanno a scuola qua, è stranissimo stare queste sensazioni. Siamo indignati ma anche ce la facciamo secondo me.